L'Assemblea dell'Unione Comunale si espressa e lei è il candidato sindaco di Fano per il PD. Una decisione presa all'unanimità? Se l'aspettava? Sì, una decisione presa all'unanimità da un attivo di tutti gli iscritti del Partito Democratico di Fano. È venuta fuori dopo ampia discussione. Non era scontasto che venisse fuori il mio di nome. Dunque sono contento, sono consapevole anche del fatto che da questo momento in poi inizia una sfida nuova, una sfida diversa. Non solo dentro il PD ma fuori, in città, perché si possa dare a Fano un candidato per il centro-sinistra giusto e che possa vincere le prossime elezioni amministrative. E come Fano merita di essere governata bene e quindi anche con applicazione e con orgoglio. E quindi questo è il risultato dell'Assemblea Comunale. Ho accettato questo incarico dopo aver dato la mia disponibilità con soddisfazione. È un'esperienza da assessore all'urbanistica, soprattutto da vice sindaco, per cui immagino che il percorso futuro sia anche in continuità con il lavoro svolto sino ad oggi. Il mio percorso è molto chiaro, netto. Sono stato segretario del PD, sono stato capogruppo nel Partito Democratico all'opposizione delle giunte precedenti. Sono diventato prima assessore ai lavori pubblici, poi nel 2019, anche stante il successo elettorale, sono diventato vice sindaco. Quindi un percorso lineare, è un percorso che ho fatto sempre con orgoglio, con ambizione e con passione. Quindi sicuramente la Fano che sarà, sarà una città che tiene conto di quel bel lavoro che abbiamo fatto, migliorando gli ambiti dove si può migliorare. Ci sono degli ambiti dove possiamo far meglio e sicuramente in continuità. Ma gettando un ponte verso il futuro, questa città deve pensare anche a cambiare alcune cose, a fare delle scelte coraggiose. Quindi questo è quello che vorrei fare. Cosa ne pensa invece di un campo largo con i progressisti per Fano 2050? Sono sempre stato favorevolissimo al campo largo. È uno sforzo che il centro-sinistra deve fare. Deve farlo fino alla fine, venendo dietro anche alla linea del PD a livello nazionale. Serve uno sforzo in più, da parte nostra, ma anche da parte di questo campo progressista, che certamente si deve mettere insieme al centro-sinistra classico per opporsi a un vento di destra che, come dire, sta arrivando, in questa regione è già arrivato dopo la sconfitta di Ancona e della regione Marche e quindi in questo momento le forze di sinistra, di centro-sinistra di questa città si devono unire perché devono, come dire, resistere a una situazione esterna molto difficile. Quindi l'appello che io faccio è che queste forze si uniscano, che le persone che si sentono di sinistra e di centro-sinistra rafforzino il loro impegno nell'ambito della loro vita sociale perché questa coalizione possa continuare a governare la città.